Ciao sono Sam di Fuoriestrada e oggi parliamo di Alpinistar. Lo facciamo con la TGPR V3 Jacket. Oggi presentiamo quindi una giacca sportiva doppio strato ideale per questa stagione. Per doppio strato intendiamo in questo caso una costruzione esterna waterproof con membrana Drystar e internamente un trapuntino da 100 grammi. Ovviamente trapuntino che può essere tolto. La nuova versione di TGPR va ovviamente a migliorare alcuni aspetti rispetto alla V2. In questo caso troviamo per esempio una costruzione della manica precurvata di modo da fornire maggiore comodità durante la guida. Troviamo sempre protezioni livello 1 su spalle e gomiti, protezioni più rigide sui gomiti e più morbide internamente sulle spalle perché esternamente abbiamo dei rinforzi stampati in 3d con doppia cucitura. Troviamo i soliti elementi catarifrangenti per l'omologazione in particolare sulla manica e sull'interno manica. Ovviamente sono presenti anche sul retro e ciò che viene rivoluzionato quasi completamente rispetto alla versione precedente sono le nuove prese d'aria. Nella versione V2 di questo giubbino le prese ci sono ma non sono così ampie come lo sono nella nuova versione. Infatti queste partono da sotto la scella e vanno a finire sul fianco sul retro verso la schiena a livello dei reni. Abbiamo una posizione più strategica degli elementi elasticizzati quindi posizionati a livello della spalla tra spalla e collo e anche a livello dell'interno manica. Il paraschiena come sempre viene venduto a parte. È possibile inserire un qualsiasi livello 1 o livello 2 sia di Alpinistar che della stragrande maggioranza dei paraschiena universali ma è anche possibile utilizzare ovviamente indossato sotto la giacca anche l'airbag Teca Air 3 o Teca Air 5. Abbiamo poi nuove e migliorate regolazioni su polsi e fianchi e abbiamo due tasche esterne più una interna impermeabile. Infine abbiamo la cerniera di connessione per i pantaloni Alpinistars. Quindi per chi è indicato questo giubbino? Per chi vuole essere protetto dalle intemperie anche quando le sue uscite sono di carattere sportivo. Infatti questa giacca va a vestire molto fit con una vestibilità sportiva che va a ricordare il giubbino di pelle. Perciò quando la indosseremo noteremo che sulla parte superiore del petto soprattutto sulle spalle la giacca tirerà leggermente ci si sentirà un pochino costretti. Ma non è un problema perché appunto questo viene risolto dall'elasticizzazione presente sulle spalle e sull'interno delle braccia. È disponibile nella colorazione nera nella colorazione bianca che è questa che mi vedi indossare ora e nella colorazione rossa che è invece quella che abbiamo utilizzato per questo video e che sto indossando ora. Piccola nota per chiunque sia curioso di provare la vestibilità di questa giacca la regolazione sul polsino risulta comunque un pochino stretta soprattutto quando si va ad indossare la giacca la prima volta. Di conseguenza consiglio vivamente di aprire i lacci e aprire anche la cerniera prima di andare a infilare il braccio nella manica. TGPR V3 è disponibile dalla taglia S fino alla taglia 4XL. Se sei curioso di venire a provare la tua taglia ti aspettiamo presso fuori a strada in via Salvella 9 a Rovato Brescia. Se il video ti è piaciuto ti chiedo di lasciare un like e se hai qualche curiosità utilizza pure la sezione qui in basso dei commenti. Noi ci vediamo alla prossima ciao il meglio al miglior prezzo